Il calcio unisce sempre e tramite il calcio si riesce sempre comunque a ottenere dei grandissimi risultati. E l'obiettivo è stato centrato appieno nel campo sportivo di Colico, proprio così come auspicato dal presidente della Colico Derviese Ernesto Maglia in apertura della manifestazione tenuta sabato scorso. Un appuntamento che ha rappresentato decisamente più che una manifestazione calcistica a scopo benefico, così come da cartellone. Un'occasione importante, fondamentale per poter sensibilizzare l'opinione pubblica dinanzi a quelle comunemente chiamate malattie rare. Pensate, il numero di quelle conosciute e diagnosticate è di circa 8.000, numeri che crescono con i progressi della ricerca genetica. E nel nostro paese i dati ci parlano di circa 2 milioni di malati rari, patologie per le quali è decisivo creare gruppi, formare consapevolezza. Disse il professor Silvio Garattini, ideatore e fondatore del Mario Negri, che tutto ciò che viene trovato nel mondo di questa ricerca, grazie a tantissimi ricercatori che ci sono, che percepiscono delle borse di studio e niente di più, non viene brevettato e va a favore di tutti. Quindi nessuno scopo di lucro, ma solo del grande volontariato. Purtroppo chi si trova in queste situazioni deve per lo più girare fino a che trova chi riesce a dargli una risposta ai suoi problemi. Come disse Garattini, deve iniziare il viaggio della speranza. E allora, allora, è necessario uno sforzo da parte di tutti e quello sforzo c'è e c'è stato. Perché sul campo di Colico sono accorse le formazioni giovanili di Colico Del Viese e Solarity, di calcio femminile delle All Blacks Belle Glorie e del Kral Calcio Femminile di Biella per un incontro e di calcio maschile degli All Blacks Vecchie Glorie della Edison e della Nazionale Italiana Agenti Immobiliari per un triangolare. Ma sono stati tanti gli sponsor presenti, a cominciare dal mondo dell'imprenditoria e dell'associazionismo. Perché quando c'è bisogno di solidarietà, ognuno ha il dovere morale di fare il possibile. Le malattie rare, come dicono in televisione, sono uno tsunami. Ti arrivano così all'improvviso e ti devastano la vita. Perché ce ne sono di vari tipi, alcune veramente micidiali, diciamo così. Quindi bisogna aiutarle perché la ricerca ha bisogno di questo. Non sono appunto malattie comuni, quindi diventa difficile anche curarle. Quindi dobbiamo stare molto vicini a questo discorso delle malattie rare. Anche a livello nazionale sono state riconosciute, quindi si sta evolvendo la cosa. Ma non dobbiamo mai arrenderci e continuare in questa direzione. Nel gennaio scorso accolico l'inaugurazione della sezione locale della Fondazione Associazione Ricerca delle Malattie Rare. Siamo veramente orgogliosi che a gennaio sia nata una delegazione di ARMR. E quindi oggi lo sport scende in campo per la solidarietà, per la ricerca e per dare un futuro a chi in questo momento soffre. Queste malattie rare dipendono per circa il 90% dei casi dalla mutazione di un gene. E tanto c'è ancora da scoprire. Da qui l'importanza fondante della ricerca. Noi ci occupiamo di raccogliere fondi per supportare le borse di studio di giovani ricercatori. Perché si è scoperto come tagliare, ovviamente il tutto in maniera biologica nei laboratori, quel pezzo di gene difettoso e andare a sostituirlo affinché la vita dell'ammalato migliori. Grazie a tutti.